Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. Per capire che cosa si sarebbe creato proprio qui a Pozzallo. Ce lo spiega lei perché se ne ha parlato molto ma se ne ha capito anche molto poco. Se l'ha parlato di CPR, cifre. Insomma che cosa è esattamente come mai non è ancora in funzione e che cosa non è chiaro per voi? Noi abbiamo chiesto nei mesi passati un aumento dei posti per avere più capacità di accoglienza. Quindi è stato creato questo centro di 300 posti e subito dopo la realizzazione di questo centro il ministero ha avuto l'intenzione, come poi si è verificato, di trasformare una parte di questi posti, esattamente 84, in un centro di rimpatrio. accelerato nel senso che ci sono delle procedure che ti permettono di espellere nei paesi cosiddetti sicuri e non so quanti siano questi paesi sicuri, nei paesi sicuri espellere i migranti stesso per un termine di 28 giorni, di 6 settimane e così via. Ecco questa è la situazione che noi stiamo vivendo. Aspetti sindaco, mi faccia capire bene. Quindi quel centro che noi vediamo da una parte è un centro che ospita, così come succedeva in passato, i migranti in arrivo, in attesa di capire se sono richiedenti asilo, insomma per tutte le procedure dell'identificazione. per quelli che arrivano dai cosiddetti paesi sicuri, quello diventa un centro per il riconoscimento accelerato, non ha niente a che fare però con il CPR, di cui tanto abbiamo parlato in questi giorni. ha detto esattamente, ha detto esattamente come stanno le cose, questo non è un CPR, questo è un centro dove le procedure sono abbreviate ai sensi del decreto Cutro, ecco questo è quello, ed è il primo in Italia, quindi è un centro sperimentale. Quindi sono quelle persone che finiranno nel centro dove lei si trova, che potranno pagando circa 5.000 euro eventualmente uscire da lì? E ci crede che pagano 5.000 euro? Io ho tanti dubbi e tante verplessità. Questa è una bellissima domanda, però dico se è a loro che è indirizzata quella possibilità, è corretto? Sempre per capire se abbiamo capito, perché la materia è complessa. Ecco, è molto corretto, però ecco se mi permette qualche secondo, non qualche minuto, dico il governo si dovrebbe porre l'obiettivo non solo di istituire, di realizzare questi centri, io penso che dobbiamo smetterla di avere solo una mentalità repressiva. La vera questione, secondo me, io la vedo da Pozzallo, quindi proprio alla periferia, un comune di frontiera, la vera questione che noi ci aspettiamo dal governo, una vera e propria politica di integrazione, più fondi, più investimenti, perché questa è la grande questione. Io ti dicevo alla dottoressa Testi qualche minuto fa, ieri sera sono stato in una pizzeria, ho mangiato una pizza, mi ha servito un ragazzo di colore, poi sono andato a pagare e lui era sempre alla casa e questo era un ragazzo che era sbarcato sette anni fa a Pozzallo, è stato nel nostro centro SAI e quindi ha fatto una politica di integrazione e oggi appartiene a pieno titolo alla comunità pozzallese. quello che ci aspettiamo noi no no ma Tiziana scusa per